www.feyyaz.tv Nell'anno del Signore 1187 Costor mi chiedono un argomento religioso e allora dirimarlo quivioso di anzi a costui che secondo me è un po' lusturioso Costui mi chiede la benedizione, mi chiede sia anche la soluzione Un indescrivo e poi trattata Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione